Un episodio insolito nella vita di Giulio Cesare è il suo rapimento da parte dei pirati cilici, avvenuto intorno al 75 a.C., mentre era ancora un giovane uomo. Cesare, che stava viaggiando verso Rodi per studiare, fu catturato dai pirati, che chiesero un riscatto di 20 talenti d'argento per la sua liberazione. Con incredibile audacia, Cesare insistette che il riscatto fosse aumentato a 50 talenti, sostenendo che la somma originale svalutasse il suo valore. Durante la sua prigionia, Cesare trattò i suoi rapitori con una tale autorità da sembrare lui il capo. Partecipava ai giochi e alle esercitazioni quotidiane, scriveva discorsi e poesie che costringeva i pirati ad ascoltare, minacciando di crocifiggerli una volta libero. Mantenne la promessa. Dopo il pagamento del riscatto e la sua liberazione, organizzò una flotta, catturò i pirati e li crocifisse, come precedentemente minacciato. Questo episodio non solo evidenzia il carattere eccezionale di Cesare e la sua imperturbabile sicurezza in situazioni di pericolo, ma anche il precoce esercizio di quella leader.